La più consistente scoperta che ho fatto pochi giorni dopo aver compiuto 65 anni e che non posso più perdere tempo a fare cose che non mi va di fare. La più consistente scoperta che non mi va di fare cose che non mi va di fare cose che non mi va di fare.